E dillo che non hai più fiducia in me. Eppure gli errori ne commettiamo tutti, anche tu o no? Certo, ti ho sposato. È stato un bel periodo quello. Solo il primo giorno. Poi hai tentato di vendere le fedi. Era per pagare il viaggio di nozze. Quello l'ha pagato mia madre. Che tu volevi far interdire? Sì, vabbè, una pensione di invadilità in più ci avrebbe fatto comodo. Dieci anni fa hai avuto una storia con la tipa dell'assessorato. Ma come fai a dire un'assurdità del genere? È la mia migliore amica. No, non era tua amica. Lo è diventata dopo, per solidarietà. E oggi mi nascondi che non abbiamo più nulla sul conto corrente. Ascolta, io stavo a tanto così per mettere tutto a posto, ti giuro, a tanto così. Poi Paolo ha voluto vedere i conti e quindi poi... Paolo, Paolo, da quando ha messo piedi in questa casa non c'è nulla che vada come prima. Scommetto che vuole vederci mutande. Vabbè, a te ti ha visto pure senza. Ma come ti permetti? Paolo, 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 Paolo.